C'è il fatto che spero, c'è l'amore vero, c'è un cielo che non resterà sempre nero, c'è un mare di mille occasioni, c'è un muro di mani, di mani che strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole. Studiare i core, organizzare le trasferte del nostro gruppo organizzato dei tifosi. Sono con Renzo Ciardelli. Renzo, questa è la vostra tana, oggi non è venerdì sera, però è qui che vi incontrate spesso. Siete non numerosissimi perché in tanti sono ancora nella fase di rientro da Vibo. Sì esatto, sono quasi 15 persone, sono andate giù a Vibo, quindi abbiamo questo gemellaggio con la tifosera di Vibo che ci teniamo particolarmente, per cui siamo in pochi perché stanno ritornando, però la partita è andata bene, quindi siamo soddisfatti. Ecco, pochi qui perché questi sono alcuni dei riduci anche della trasferta di Gabrovo, quindi in una settimana doppia trasferta molto lunga per i tifosi biancorossi, alcuni sono andati in Bulgaria e poi sono andati il cambio, quelli che sono partiti per Vibo. Ma andiamo un po' a vedere com'è andata la partita di Vibo Valenza, la bella vittoria della Coppa degli Orpi a 3-0 che scaccia veramente i fantasmi di una nuova crisi. Vediamo ora il servizio. Nella quarta giornata di ritorno Piacenza vince per 3-7 a 0 sudando però le proverbiali sette camice. Al termine di una bella gara combattuta contro Vibo Valenza che proveniva da quattro sconfitte consecutive. Dalla sconfitta in Coppa Italia con Modena Piacenza sembra sempre sotto esame e la pressione non diminuisce. Non è bastata vincere 3-0 in Bulgaria all'andata di Challenge Cup perché dopo solo 24 ore di riposo ed un viaggio di ritorno durato una giornata Piacenza deve ancora dimostrare il suo carattere. Risponde la grande vincendo contro un avversario difficilissimo in un spalle sport gremito ed infuocato. Nel primo set Piacenza commette qualche errore di troppo. Si trova sotto 21-18. Monti chiama timeout. Foxfei sale in battuta e scuotono la squadra. Al rientro la copragliora è 23 pari. Nello sprint finale Piacenza vince 29-27 ai vantaggi. Nel secondo set la chiave sembra averla Vibo che grazie ad un run-out è avanti 22-18. E sembra fare suo il parziale. Due servizi decisivi di Simon riportano Piacenza nella parità sul 23. Segue un interminabile punto a punto fino al muro finale di Simon. Dopo una grande difesa di Fei a chiudere con un 33-31 che entra di diritto nelle statistiche dei set più combattuti. Il terzo set vede Vibo scioccata dal finale del secondo set ai vantaggi. Commette troppi errori e Piacenza è brava ad approfittarne. Va in vantaggio 18-13 e a questo punto chiude il set. Vibo però trova un colpo di coda. È solo un fuoco di paglia. Piacenza è brava a mantenere la calma e grazie ad un ispirato Zlatano con il 60% di positività in attacco chiude la partita. Decisivo ancora una volta il Bulgaro che mette a segno con una pipe il 25-19 finale per un ottimo 3-0. Ottima anche la prova della Ciacato Marra con un 73% di positività e un 40% di ricezioni perfette. Ancora 10 mure al termine della gara per i biancorossi che la pongono al primo posto nella classifica di rendimento del fondamentale. Nelle altre gare della quarta giornata di ritorno Castellana Grotte batte a sorpresa nell'anticipo Modena 3-1. Vittoria per 3-0 di Macerata, Trento e Cuneo che batte Latina dopo un interminabile terzo set 40-38. In classifica Piacenza rimane al terzo posto a 31 punti dietro a Macerata e Trento a 37. Alle sue spalle Cuneo a 29, Modena a 27. Proprio Modena domenica sarà l'avversario di Piacenza al Palapanini. Prima però i biancorossi di Monti dovranno battere Gaborovo al Palabanca mercoledì alle 20.30 per accedere così ai quarti di finale di Challenge Cup. Al termine della gara con Vibo abbiamo registrato le interviste a caldo e andiamo a vedere quindi le opinioni dei protagonisti della gara, della bella vittoria della Copra e Liorra. Allora, coach Monti, che partita è stata? Strana, combattuta sicuramente. No, combattuta sicuramente. Quello che mi dispiace è che a un certo punto gli arbitri hanno un po' perso, secondo me, la partita. Si sono innervositi anche loro, secondo me, anche se onestamente delle grandi chiamate sbagliate, onestamente non le ho viste, le ho viste quando poi sono andati completamente in confusione all'inizio del terzo set con la palla presa proprio facile, facile da Simone e ha fischiato la palla per terra. Secondo me lui era già andato. Alla fine del secondo set comunque eravate seduti anche voi, pronti a sedervi. Però, secondo me, riguardando la palla, secondo me lui aveva fatto l'invasione sopra il nastro. Purtroppo dispiace questa cosa qua per il pubblico, però secondo me era così. Non è che abbia sbagliato un granché. Siccome chiaramente questa intervista serve anche agli amici di Piacenza, un giudizio sulla serata dei suoi ragazzi? Mi è piaciuta molto l'intensità che ci abbiamo messo nei momenti che siamo stati sotto nel primo e nel secondo set, siamo stati veramente molto bravi a non mollare mai ed è venuto fuori uno spirito di squadra che poche altre volte si era visto. Abbiamo reagito bene alle difficoltà e abbiamo tirato fuori quello che secondo me questa squadra realmente vale. La Tonno Galli invece dal suo punto di vista era quella che si aspettava o l'ha trovata un po'... Io ho fatto i complimenti prima della partita, non casualmente a tutti quelli che conosco di vivo perché secondo me questa è una squadra ben fatta, ben allenata e che sta bene in campo. Purtroppo in questo momento non sta passando un momento né fortunato né tantomeno probabilmente con tutti i giocatori in forma. Probabilmente si sono sprecati un po' tante energie per riuscire a fare quel girone d'andata meraviglioso che è stato fatto, compresa la Final Four di Coppa Italia. Probabilmente da questo punto di vista le energie nervose sono state tante quelle sprecate. Considerata la levatura, lo spessore della sua squadra, magari un arbitraggio quantomeno discutibile. Non voglio dire... possiamo dire che forse la Tonno Galli avrebbe meritato qualcosa in più per il gioco espresso contro una squadra come Piacenza. Quello che vuoi farmi dire è che sicuramente non meritavamo un 3-0, questo posso anche dirlo tranquillamente. Però la cosa che non avevo mai visto nella mia squadra era questa voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi anche quando si era in difficoltà sotto 3-4 punti. Di solito capitava che mollavamo un attimo oppure l'avversario ci sovrastava. Invece oggi siamo stati bravi a reagire e anche con grinta e quindi ce lo siamo anche meritati. Coach Blengini, il sentimento che prevale di più in questo momento? Dispiacere, delusione, troviamo dei sinonimi ma è questo perché io credo che stasera abbiamo disputato una grande partita almeno per due set in maniera... abbiamo ottenuto un livello di gioco molto alto, molto molto alto con pochissimi errori con una squadra che andava a tutto fuoco come si dice in gergo eppure siamo stati lì punto a punto, siamo stati sotto, li abbiamo recuperati, siamo andati avanti poi hanno trovato dei turni di battuta con Faye e Simone in tutti e due i set che ci hanno chiaramente complicato le cose ma questi non li scopriamo né noi né oggi però nonostante quello siamo andati a giocare i vantaggi con loro in queste condizioni e per questo c'è grande dispiacere perché chiaramente in queste situazioni qua capitalizzare con qualche punticino farebbe piacere. Partiamo con uno dei più giovani, dei tifosi, dei lupi biancorossi, ce lo ricordiamo piccolissimo piccolo ma lupo, continuano le trasferte. Sei stato Paolo anche a Gabrovo oppure le scuole ti ha impedito di andare in Bulgaria? No, purtroppo per impegni scolastici sono dovuto stare a casa. Quali trasferte hai seguito quest'anno delle Copra del Lior? La più importante è stata quella di Istanbul a novembre. Una bella gita, com'è andata? Com'è stata questa trasferta? Beh è stata molto bella sia come partita sia culturalmente. Vabbè quindi fate anche delle trasferte culturali, qui abbiamo il papà Danilo che invece di culturale probabilmente, non so se ci sarà stato qualcosa nella trasferta di Gabrovo dove probabilmente di storico non avete visto un granché. Non abbiamo visto un granché però abbiamo capito una cultura che è lontana anni luce dal nostro modo di vedere la pallavolo. Oltre a una città che non è turisticamente affermata però abbiamo scoperto tantissime persone con una voglia di conoscerci veramente importante. La disponibilità che abbiamo trovato nelle persone è stata magnifica. Il posto non è bellissimo, si fa 250 km da Sofia a Gabrovo senza trovare assolutamente nulla ma però ne è valsa la pena perché è stato proprio un bel modo di aprire la mente verso i paesi dell'Est. La partita nessuno di noi l'ha vista quindi ci puoi raccontare anche un po' come è andato questo incontro e che squadra troveremo e incontreremo mercoledì alle 20.30 al Palabanca nella gara di ritorno? Una squadra formata solo da giocatori bulgari, mi sembra una squadra modesta con un palleggiatore modesto e lento anni 70 italiano però loro secondo me puntavano molto sulla parte del pubblico quando siamo entrati infatti al primo coro ci hanno subito subissato di fischi ma poi alla fine tutti amici, scambio di sciarpe, foto e abbracci con tutti com'è la nostra caratteristica quando ci muoviamo. Sarà così anche domenica prossima a Modena o forse c'è più a credine con i tifosi gialloblu nel derby della Via Emilia? Ma no, nella pallavolo secondo me a credine ne vedo poca ecco, ci può essere il momento, ci può essere la situazione però noi quando siamo stati a Istanbul avendo paura, a Sofia avendo paura però non è mai successo nulla, quando ci si comporta bene di problemi non ce ne sono. Allora Renzo, parliamo dei tifosi che sono come la squadra un po' credo croce e delizia questa squadra quest'anno che insomma è stata anche aspramente criticata che però in questo momento è al terzo posto in classifica ben messa negli ottavi quindi con buone possibilità di andare ai quarti finali di questa Coppa Europea, però nonostante ciò le voci critiche dai tifosi sono alzate spesso in questa stagione, come mai secondo te? Ma più che critiche, diciamo che l'unica vera critica possiamo farla per la partita dei quarti dei finali Coppa Italia con Modena dove avanti 2-0 tutti noi ci aspettavamo di chiudere la partita c'è stato questo calo inspiegabile da parte della squadra chiaramente non ha fatto piacere né ai tifosi ma neanche alla dirigenza quanto sempre perché infatti anche il coach Monti era un po' in bilico però diciamo ci sta, speriamo che adesso con questa vittoria sia salutare anche perché il proseguio abbiamo due partite, Modena e Cuneo che secondo me saranno il crocevia del nostro campionato Monti poteva essere uno dei problemi, poteva essere il problema oppure sono altri problemi da ricercarsi in una squadra che per 2-7 un 7 e mezzo con Macerata, anche nella gara con Vibo comunque in alcuni momenti ha qualche pausa quali sono secondo te e secondo voi i problemi? Ma i problemi noi non li sappiamo nel senso che saranno cioè sarà una cosa che deve risolvere l'allenatore e la società abbiamo visto anche a Gabrovo nonostante la squadra fosse avanti 2-0 e in salute il terzo set voi per rilassamento come ha detto il presidente abbiamo questo problema del terzo set che ci crea delle difficoltà a mettere il pallo a terra abbiamo sofferto più del dovuto quando assolutamente non c'era da soffrire Allora sentiamo anche Massimo a proposito quelli che sono secondo lui i problemi perché fuori dal palazzetto, lontano dalle telecamere, dai microfoni le critiche sono molto più aspre e vehementi qui invece magari siamo un po' più cauti, più tranquilli anche dopo una vittoria ma a mente fredda quali possono essere i problemi e soprattutto cosa va migliorato in prospettiva del campionato per cercare di riuscire ad ottenere grandi risultati Va migliorato sicuramente hanno delle pause incredibili mentali perché anche con Macerata il primo set andava dentro tutto e avevamo una battuta che metteva in difficoltà la squadra avversaria dopo non siamo più riusciti a mettere in difficoltà la battuta non entra più una cosa non va, l'altra cosa non va dunque io penso che sia una cosa di testa alcuni parlano anche di un calo fisico ma ci credo poco perché poi alla fine della fiera se tu vai a vedere adesso hanno giocato a vivo dopo un viaggio incredibile e questo qui doveva essere fisicamente doveva essere una cosa prendere 3-0 venire a casa è finita lì invece è andata come è andata hanno giocato, hanno fatto il secondo set che erano sotto l'hanno portato a casa dunque io penso che sia una cosa di testa dovrebbero guardarsi dentro cercare di tirare fuori quello che riescono il meglio possibile e cercare di stare tranquilli Tanti nuovi acquisti in questa stagione della Coppa di Lior quale giocatore, quale aspetto ti ha stupito positivamente e maggiormente e quindi sei stato felice di vedere in questo inizio di campionato della Coppa di Lior? Ma guarda, sicuramente Simone è un bel centrale adesso per secondo me non è ancora al massimo della sua forza anche perché gli è mancata per tanto tempo la pallavolo eccetera eccetera però io penso che tutti mi hanno stupito in modo abbastanza positivo Allora siamo con Andrea Andrea invece chiede ormai abbiamo visto tutte le squadre quasi una girone e mezzo abbiamo visto anche quali squadre sono le più forti quali a questo punto credi verosimilmente quali possono essere gli obiettivi della Coppa di Lior visto anche le altre squadre che abbiamo incontrato Beh, premesso che ultimamente non ho seguito tanto la squadra per varie mie problematiche io direi che sulla Coppa Europea penso che posso puntare molto il Coppa sul campionato sappiamo che ci sono Trento che effettivamente sembra sia di no anche se ultimamente ha dimostrato che ha delle pause anche lei vuole magari per infortuni o per altre cose però penso che sulla Coppa Europea il Coppo possa avere una buona chance Renzo, anche a te Presidente faccio la stessa domanda quali obiettivi verosimilmente allora con quale bilancio i tifosi bianco-rossi potrebbero essere soddisfatti di questa stagione? Beh, sicuramente finire la stagione la regola del segno al terzo posto sarebbe eccezionale nel senso che sapevamo già all'inizio che Trento e Macerata sono un gradino sopra anche perché il terzo posto non è detto ma dovrebbe dare la sicurezza di un posto in Champions e quindi sarebbe già l'obiettivo centrato e poi la Coppa Europea che veramente è l'obiettivo principale a questo punto della squadra anche di noi tifosi puntiamo tutto su questa Coppa e anche le trasferte che abbiamo fatto lo dimostrano Renzo, tante iniziative abbiamo visto domenica scorsa i lupi bianco-rossi hanno dato 1000 euro alla casa di Iris ricordiamo l'hospice di Piacenza i lupi bianco-rossi non sono solo tifosi che viaggiano per il mondo hanno anche delle iniziative molto interessanti come riuscite a far coabitare tutto con una tessera onestamente molto modesta per ogni anno che i vostri tifosi pagano? ma diciamo che anzi voglio ringraziare tutti i soci i lupi bianco-rossi che con la quota della tessera appunto non solo la casa di Iris ma abbiamo aiutato anche i terremotati a Modena a giugno quindi sono ragazzi che veramente si prodigano per tutto in più c'è da ringraziare appunto la società che ci dà una grande mano contribuendo economicamente alle trasferte al costo ovviamente delle trasferte quindi riducendo lasciandoci qualche brillo per spendere questi soldi diciamo in coreografie e quant'altro serva per la vita del club finalmente è arrivata una donna un nastro rosa in questa trasmissione giusto appunto per fare una domanda a lei che sicuramente si può rispondere sulle prossime iniziative le prossime trasferte dei lupi bianco-rossi dopo aver girato Gabrovo e Vibo Valencia adesso forse trasferte un po' più umane e normali se non sbaglio sì la prossima trasferta è domenica 27 a Modena organizziamo come al solito il pullman per la trasferta e le modalità sono sempre le solite insomma il venerdì sera qua al bar raccogliamo le iscrizioni ricordiamolo qui al bar Madison il venerdì sedio i lupi bianco-rossi si trovano tutti i venerdì sedio ogni venerdì sera dalle nove e mezza in poi ci troviamo insomma parliamo un po' del campionato, delle partite facciamo anche due chiacchiere fra di noi per come si dice cementare il gruppo, è un gruppo comunque anziano già quest'anno festeggiamo i dieci anni quindi è stata anche una bellissima cena a Renzo che è stata fatta, organizzata molto bene dove credo che la squadra innanzitutto abbia risposto molto bene a questo decennale quindi è sicuramente un traguardo molto positivo ci siamo dimenticati qualcosa dei lupi bianco-rossi che dobbiamo ricordare per chiudere questa trasmissione in bellezza Renzo guardo te, Danilo tutto un ringraziamento ai tifosi che sono andati a Vibo per il terzo anno consecutivo, una delle poche tifoserie che va sempre ovunque e comunque anche in quei posti perciò con sacrifici economici e di tempo siamo in tre che siamo andati a Gabrovo manca Alberto e Angelo che sono invece anche loro hanno fatto il bis a Vibo perciò alla squadra non facciamo mai mancare l'apporto questa è la cosa principale io credo che una menzione particolare di Alberto e Antonio che hanno fatto il bis a Gabrovo e Vibo vada sottolineato in chiusura di questa trasmissione siamo giunti così alla fine vi do appuntamento quindi a lunedì prossimo sempre su Tele Libertà sempre alle 20.30 vi ricordo la gara al termine su Tele Libertà 2 alle 21.55 la differita della bella vittoria della Coppa degli Opio a 3-0 a Vibo Valenza è tutto, buona serata c'è il fatto che spero c'è l'amore vero c'è un cielo che non resterà sempre nero c'è un mare di mille occasioni c'è un muro di mani di mani che strappano le nuvole così si strappano le nuvole e si strappano le nuvole c'è un muro di mani